e vi mettiamo la schiuma sulla mano e le donne allora dovete insaponare prima tutti il viso dell'uomo il tuo ognuno è il vostro veniamo noi a dare la schiuma insaponate tutto tutto cosa? lo faccio e dopo che avrete messo la schiuma dove avete raffaffato o il cucchiaio chi è bravo a far schiuma la palma vince e lo dico si bravo allora facciamo vedere veniamo da voi senti? pronti? a sua destra ma ecco c'è il problema